Sono in diminuzione i contagi in Sicilia. Nella settimana dal 24 al 30 ottobre, infatti, si è registrato un decreamento delle nuove infezioni. Sono state riscontrate in meno 12,92% di positività rispetto alla settimana precedente, per un'incidenza di 176,5 casi di positività su 100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa, Trapani e Messina. Le fasce di età maggiormente a rischio risultano sempre quelle tra i 69 e gli 89 anni, mentre aumentano le ospedalizzazioni e più della metà dei pazienti risultano vaccinata. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, invece, dalla settimana che va dal 26 ottobre al 2 novembre hanno completato il ciclo primario il 21,68% dei bambini. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose sono il 90,83% del target regionale. I vaccinati con terza dose, infine, sono il 72,35% degli aventi diritto. Dal 7 settembre il Ministero della Salute ha autorizzato la somministrazione della dose booster agli over 60, alle persone di elevata fragilità e agli over 12 in attesa della terza dose, includendo anche operatori sanitari, lavoratori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. Le quinte dosi somministrate, infine, risultano complessivamente 974.